buonasera proprio stasera non sapevo proprio che cosa cucinare poi ho visto che in frigorifero avevo una bella melanzana di quelle viola quelle viola chiare ho deciso di fare delle cotolette delle semplici cotolette di melanzana buonasera stasera ho intenzione di fare delle belle cotolette semplicissime fatte con la melanzana questa melanzana viola le accompagnerò con dei piselli dei semplici piselli cotti con dell'olio che sta virgine d'oliva e un poco di menta mi sono dimenticata di dirvi che non le friggerò le farò al forno allora ho messo della mollica di pane e del formaggio grattugiato un pizzico di sale e un po di pepe e qui ho sbattuto le uova adesso piano piano mi vado a preparare le cotolette mi vado ad impanare le cotolette passandone prima nell'uovo e poi nella mollica di pane e formaggio e poi le metto sulla placca del forno coperta con la carta forno su ogni simile cotoletta perché non sono proprio delle cotolette ho messo del basilico e del rosmarino qui mi era finita l'impanatura e le ho lasciate qui così qua c'è solo bagnata nell'uovo comunque ho messo il basilico e rosmarino anche qui sopra adesso vado a mettere un filo d'olio un po di pepe e in forno per cento allora per 30 minuti 160 gradi alla prossima